a cercare piante per il mio laghetto, qua ce n'è veramente tante, stiamo a vedere che succede bene siamo qua a fare la spesa ragazzi, l'abbiamo fatta, ecco le mie piantuzze ossigenanti, drenanti, tutto quanto e andiamo a piantarle nel nostro laghetto, seguitemi ora anche per le piante siamo in duratura d'arrivo, abbiamo messo i palustri, lì sotto si vede la linfea e dall'altra parte l'ossigenante adesso l'acqua è un po' torbida perché si deve assestare tutto quanto ma comunque sta prendendo forma, devo ancora decidere il contorno le ultime piante, quelle galeggianti per formare il ciclo, adesso andiamo a piazzarle poi vediamo che succede, poi in seguito piazzeremo anche i pesci, stiamo in giù tanti tipi di piantuzze vediamo che chiudiamo il ciclo e vediamo basta togliti e adesso a breve mettiamo i pesciolini vero? ciao ragazzi ciao Grazie a tutti.